La famiglia reale di Norvegia ha pubblicato la sua cartolina di Natale festiva annuale, con un ritratto scattato al palazzo di Oslo.Rearal della regina Sonia, entrambi di 84 anni, sono davanti e al centro, mentre la principessa ereditaria Mette Marit e il principe ereditario Akon, entrambi di 48 anni, stanno dietro con i loro figli, la principessa Ingrid Alexandra, 17 anni, e il principe Sverre Magnus, 16. Kingarald è stato ricoverato in ospedale con difficoltà respiratorie nel settembre 2020, anche se è risultato negativo al Covid. La loro ultima cartolina di Natale prevedeva il distanziamento sociale della famiglia. A causa delle condizioni di suo padre, il principe ereditario Akon si fece avanti e assunse i suoi doveri reali.Rearald salì al trono dopo la morte di suo padre, Reolav, il 17 gennaio 1991. E' anche il primo renativo del paese dal 14 secolo. Popolare tra i suoi subiti, ha conquistato i cuori della nazione quando ha sposato la regina Sonia nella cattedrale di Oslo il 29 agosto 1968. E' diventata regina il 17 gennaio 1991. Rearald è stato anche elogiato a livello globale per un discorso del 2016 che mostrava il sostegno ai diritti dei gay. Ha detto, i norvegesi sono ragazze che amano le ragazze, ragazzi che amano i ragazzi e ragazze e ragazzi che si amano. Grazie a tutti.